Il coordinamento dei sindaci dell'ambito 26 ha deciso di chiedere il commissariamento dell'ambito, passo necessario per la nomina di un commissario con pieni poteri, capace di risolvere il dramma di decine di famiglie rimaste senza assistenza. Inoltre, nel corso della riunione e su proposta del sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, è stata decisa una compartecipazione dei comuni per una gara 5 per l'affidamento temporaneo dei servizi, in attesa che la burocrazia italiana espliti la gara. Indubbiamente hanno affrontato i problemi da tutte le angolature perché esiste un problema reale di interruzione del servizio a favore delle famiglie che hanno necessità di avere assistenza, quindi senza dubbio il problema è grosso. È altrettanto vero che la copertura finanziaria è quella che è e quindi sicuramente dovrà intervenire la regione. Il timore è che l'assistenza possa essere fagocitata, il problema dell'assistenza possa essere fagocitato dalle maglie della burocrazia. Mentre il problema è reale, è cogente ed è contingente. Le famiglie hanno necessità di avere assolutamente il sostegno in casa per assistere questi ragazzi che sono assolutamente incapaci di attendere ai propri atti quotidiani. Speriamo che la regione voglia intervenire, ma l'assessore D'Angelo ha dato subito grande dimostrazione di sensibilità e di disponibilità e certamente farà il possibile, ma sicuramente la nuova gestione di questo 2015 non potrà portarsi dietro il fardello di tutto quanto è stato fatto male negli anni precedenti. Bisognerà intervenire assolutamente con un atteggiamento più realista e attento alle esigenze del territorio. Quello è il nostro auspicio. Abbiamo finito adesso la riunione, abbiamo deciso di venerdì c'è stato l'incontro con l'assessore D'Angelo. La proposta che è uscita dalla riunione è che vada commissariato l'ambito, ma la politica non abdica praticamente al commissariamento perché non riusciamo a risolvere il problema. Però bisogna o dare poteri all'ambito, ma poteri forti, oppure avere un commissario che possa risolvere questa situazione impellente, quella della sospensione dei servizi. Un'altra proposta che è stata fatta è quella con la copartecipazione dei comuni, anche se stiamo lavorando in dodicesimi e quindi abbiamo pochi fondi, fare un affidamento, una gara 5 al limite per fare praticamente un affidamento temporaneo in attesa della burocrazia che in Italia, la ripeto, in Italia c'è una burocrazia che è troppo esagerata e quindi si ferma tutto, che la stazione unica appaltante sbrighi la procedura per la gara già fatta e inviata il 4 novembre alla stessa sua. Il problema è questo che in attesa di questa gara i servizi sono stati sospesi e quindi ci troviamo ad affrontare un problema gravissimo, quello della sospensione dei servizi ai disabili e agli anziani. Grazie.